musica 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 buongiorno a tutti il mio nome è TITZ20 e benvenuti in questo nuovo video sul canale mi hanno sfidato all'elitra challenge cosa equivale ci sono vari tunnel in questo caso dovremo fare quello magente e dovremo fare un punteggio migliore di 2359 che è il punteggio che ha fatto il mio sfidante che mi ha citato nel suo video icecrafter che trovate sotto in descrizione del suo video barra canale allora mi raccomando giocate in F5 che è l'unico modo per tentare di vincere io devo buttarmi nel viola magenta che è da questa se non mi sbaglio no eccolo laggiù meglio di 2359 pronti via ok inizia il punteggio adesso 1 2 3 20 20 ok subito allora ragazzi è la prima volta che uso così tanto l'elitra non credo di averla mai usata tantissimo in vita mia infatti nella 1.9 non ci gioco tanto se non le skywars gli sg ma lì appunto l'elitra scarseggia appunto perché sono mini giochi che non ne hanno bisogno anche se nell'esg in 1.9 su qcraft c'è l'elitra e la puoi trovare però non la uso spesso quasi mai in realtà perché meglio un corpetto in diamante con la protezione 3 comunque noi dobbiamo battere 2359 siamo a 600 è veramente difficile poi perché se curvi rallenta appunto il moto e la velocità del tuo piccolo steve con l'elitra in questo caso il mio piccolo tizio 20 iper violaceo e noi dobbiamo cercare di battere quel punteggio arriveremo in una zona in cui appunto ci sono tanti alberi tante robe viola e lì dovremo arrivare ok in mezzo a questi due alberi oh mio dio la provata dai andiamo a battere il buon ice andiamo a battere il buon ice ce la possiamo fare abbiamo fatto un po' di prove non so se ve le metterò a inizio a fine video giusto per farvi vedere oh mio dio no craniate epocalittiche magari vi metterò tutti i test che ho fatto prima che è veramente una cosa improponibile o che io continuavo a sbattere contro muri e alberi ma dettagli poi ho provato anche gli altri tunnel oh mio dio uno più difficile dell'altro possiamo anche una battle sarebbe veramente il top arrivare nelle prime tre posizioni infatti se vedete c'è il rank oro argento e bronzo a destra dello schermo di minecraft e se io riesco a fare un punteggio minore di quello sarebbe veramente eccezionale però io sono già a 2100 e mi sono giocato anche il silver e l'oro peccato comunque dovremmo essere quasi alla fine eccoci 2300 2300 2200 battuto al primo colpo ice buuuu fai schifo nomino a battermi a questa mappa la sexy e unica anlix 98 e anche il buon sbrizer andiamo a vedere se voglio fare un punteggio migliore del mio e adesso sceglierò una mappa casissimo andiamo quella laggiù quella laggiù mi piace andiamo lì andiamo lì ecco che sbatto come un cretino ok non me la lascia fare dai 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 che siamo partiti dai che siamo partiti dai che siamo partiti ok questa è la prima volta che la faccio quindi non so se riuscirò a finirlo anna sbrizer siete quotati 1 a 0 per tentare di battermi perché io sono troppo figo e sono morto devo stare pozzare riproviamoci tu 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 paraparapparapparà parapapä ce la possiamo fare ragazzi io credo nel cuore delle carte e anche nelle fate quindi come ci hai insegnato la vita io devo vincere mannaggia all'oro o al'oro loro e adesso mi metto in confusione Per sempre Ok andiamo 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 Perfetto urca Come l'ho presa la curva non lo so Neanche io allora Intanto vi racconto un po' di cose Ieri non so quando uscirà questo video Te lo capite oggi quindi ieri Sono stato tutto il giorno a Milano Non potete immaginare cosa volevano offrirmi Per una casa Sono morto Hanno cercato di rifilarmi una casa Una stanza in nero Porca miseria A me non fosse stata grande la stanza Le ho detto le faremo sapere più tardi Verso ore di cena Certo convinta signora Marcella Vaffanbrodo te Che volevi darmi Mi chiedeva 480 euro affitto al mese 480 in anticipo Che mi ridava l'ultimo mese che stavo lì Però in nero per il semplice motivo Che lei sta vendendo la casa E quindi ogni tanto ci sarebbe stata la gente a vedere la casa E col cazzo proprio Le volevo dire Oddio no Oddio no Oddio no Oddio Oddio Andiamo 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 Perfetto Ok Ce la possiamo fare Dobbiamo solo stare attenti Un po' di concentrazione Oh mio dio Quella curva Cioè ragazzi Perfetto Wow 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 Non so come ce la sto facendo Neanch'io No 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 Stavolta no Oh Oddio Ok Zona nuova Zona nuova Zona nuova E' la prima volta che arrivo fino a questo punto Non ci sto credendo neanche io Non ci sto credendo neanche io Oh mio dio Oh mio dio Ok ragazzi Dato che è veramente difficile per me cercare di vincere appunto la mappa del bianco nero Ragazzi sfido appunto a Nice Breezer a cercare di battermi almeno in quello del magenta Che è il colore super carino e coccoloso Che è quello laggiù Dov'è? Eccolo là Quel colore carino e coccoloso Quello colore carino coccoloso Dovete cercare di battere il mio punteggio che vedete all'interno del video A Nice Bree Buona fortuna Ice Crafter Fai schifo E se volete il download di questa mappa Arriviamo a 500 like Ve lo lascio sotto in descrizione Insieme ai canali dei Chi sfido e chi mi ha sfidato Ci vediamo al prossimo video di giorno è ore 18 E da attenzione Tutto Ciao A tutti Paa Ciao